Le sei vittime dello schianto dell'elicottero del 118 sul Monte Cefalone hanno già il passaporto per il Paradiso, sono morti per un gesto di altruismo, sono figli coraggiosi della nostra terra e ci inchiniamo di fronte al gesto di abnegazione che hanno compiuto. Così nella sua omelia all'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, che oggi ha celebrato il rito funebre nella chiesa di San Bernardino di Piazza d'Armi, colma di gente sia all'interno che all'esterno, dove la cerimonia religiosa è stata seguita attraverso un maxischermo. Alle sei qui hanno partecipato anche il ministro della difesa, Roberta Pinotti, per testimoniare la vicinanza del governo e del paese ai parenti delle vittime e alla comunità dei soccorritori, oltre al presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e a quello della regione Puglia, Michele Emiliano. Il capologo di regione, il lutto cittadino come proclamato dal sindaco Cialente, ha voluto così tributare con affetto l'ultimo saluto al medico Walter Bucci, 57 anni di Rocca di Cambio, all'infermiere Giuseppe Serpetti, 59 anni di Arischia, al tecnico di bordo Mario Matrella, 42 anni di Putignano, in provincia di Bari, e al tecnico del soccorso alpino Davide De Carolis, 40 anni di Teramo. I funerali delle altre due vittime, cioè Gianmarco Zavoli, pilota 46enne riminese, e Ettore Palanca, lo sciatore cinquantenne romano, saranno celebrati nelle rispettive città. Sempre nell'Omelia, Monsignor Petrocchi ha voluto richiamare le istituzioni dicendo che occorre porre la massima cura per evitare atrofie burocratiche contro le furie naturali. Questi corpi, ha detto, risorgeranno a noi il compito di prendere il testimone di questi fratelli. Sull'altare poi si sono susseguiti i brevi ricordi dei familiari delle vittime, toccante quello di Maria Chiara Bucci, figlia del medico del 118, che ha detto di essere fiera di suo padre, che per lei resta un eroe, morto da eroe. La giovane ha quindi ringraziato i sanitari della ASLE e i soccorritori, continueremo a volare per voi e con voi, ha detto un rappresentante dell'elisoccorso dell'Aquila. Infine, il sindaco Cialente si è chiesto se ci sia ancora posto nel cuore degli aquilani e degli abruzzesi per questo nuovo dolore. Noi, ha osservato il primo cittadino, abbiamo riscoperto che in questa società esiste una parte che tutti i giorni offre il proprio volontariato. Il sindaco ha infine annunciato che sarà intitolato una via o una piazza alle vittime, quale insegnamento per i giovani.